benvenuti a tutti quanti benvenuti io mi presento innanzitutto sono diego trainer di group sebb e oggi sono qui a presentarvi a farvi conoscere un po meglio quello che è l'ultimo arrivato in termini di robot multifunzione della cucina cioè il nostro nuovissimo click chef che cos'è click chef click chef come vi dicevo è un robot multifunzione un robot in grado di aiutarci in tutte quelle piccole preparazioni che noi vogliamo svolgere nel quotidiano all'interno delle nostre case e che spesso necessitano di molti elettrodomestici per riuscire a svolgere questo tipo di operazioni click chef in un unico prodotto estremamente compatto e ora iniziamo già a vedere le caratteristiche perché l'ingombro lo vedete è esattamente quello di un foglio a quattro quindi un ingombro piccolissimo per un prodotto in grado di lavorare a 360 gradi in quelle che sono tutte le operazioni che noi ci troviamo a svolgere poi in cucina ma andiamo a vederlo un pochettino più nel dettaglio click chef ha una ball facilmente estraibile è sufficiente andare a premere questo bottone frontale tirando in maniera verticale ci portiamo a casa quello che è il contenitore dove andremo a effettuare le preparazioni ball con una capienza da 3,6 litri quindi una capienza sufficiente per mettere a tavola fino a quattro coperti di persone la ball all'interno si può aprire ovviamente e troviamo al suo interno quelle che sono le lame lame con le quali possiamo andare a effettuare praticamente tutti i tipi di preparazione triti impasti sminuzzare frullare tutte queste operazioni che normalmente vengono effettuate per tutte le preparazioni normali che abbiamo all'interno delle cucine che cosa troviamo poi all'interno di click chef il kit di accessori di click chef presenta un kit molto semplice ed essenziale troviamo infatti questo accessorio un po' particolare altro non è che una piccola copertura in materiale plastico che si va a montare comodamente su quello che è il set di lame questa copertura ci permette di andare a utilizzare la lama principale per andare a mescolare tutte le preparazioni che noi vogliamo fare proprio con click chef queste preparazioni vengono quindi rispettate senza danneggiare quelli che sono gli alimenti all'interno della ball stessa quindi va bene per tutte le operazioni di cottura che noi andremo a fare dove è richiesto un certo mescolamento troviamo poi una piccola lama per andare a montare a sbattere a fare tutte queste operazioni che tende a inglobare aria all'interno del contenitore quindi all'interno dell'alimento che noi vogliamo andare a preparare e come ultimissimo accessorio un piccolo cestello per andare a utilizzare click chef anche per la cucina a vapore è sufficiente infatti mettere un paio di dita d'acqua all'interno della ball di del nostro click chef per utilizzare poi questo cestello per tutte le cotture diciamo salutari e quindi al vapore eccoci giunti alla conclusione di questa presentazione mi rimane soltanto da raccontarvi qualcosa riguardo al manuale il ricettario che trovate all'interno della confezione e che proprio vi permetterà di andare a realizzare fantastiche ricette in modo facile e veloce e voilà